Ciao uomini nudi e bentornati su The Sims 4 Inizierei subito da dei saluti visto che da un po' che non facevo The Sims Molti dei vostri commenti li ho letti su Instagram, Facebook, eccetera eccetera E mi hanno chiesto Dark salutaci lurido maledetto No insomma mi hanno detto solo di salutare E allora io saluto Franci Furious Poi Aurora mi dice la mia amica mi ha detto se ci puoi salutare su The Sims Va bene quindi un saluto ad Aurora, Sara E poi anche Shady o Shady Beh dipende insomma Saluto tutte Ciao belle Oggi apriamo The Sims e vediamo subito sotto una cosa molto bella Dalla prossima settimana un nuovo game pack The Sims 4 Gita all'aria aperta Gioca con le novità la prossima settimana Sì sti cazzi volevo anche vedere qualcosa in più ma mi sono informato Per tutti voi possessori di The Sims 4 vi dico subito il game pack non è un'espansione vera e propria Quindi siate felici ma non abbastanza perché non è un'espansione E' un contenuto DLC a pagamento ovviamente figuriamoci sapete da dove arriva tutto insomma Eh lo ti fanno pagare anche il buco del sedere Però ci offrirà delle possibilità nuove Ci daranno vestiti contenuti esclusivi In più ci sarà un personaggio non giocabile da quello che ho capito Che si aggirerà tra i boschi di questa Granite Falls Che sarebbe tipo caduta di granito Tipo caduta massi una cosa si chiama così Tipo vabbè è quello non è colpa mia Comunque questa creatura che si aggirerà per i boschi sarà un orso E sarà figo chissà che cosa non ci combinerà Sarà un po' tipo yogi ecco se vogliamo In più avremmo diverse nuove attività di gruppo Eh non so potremmo stare insieme attorno al falò Giocare al lancio del ferro di cavallo Cimentarci nel creare pozioni con la nuova abilità d'erborista O passeggiare attraverso la natura selvaggia dei boschi E raccogliere tutte le nuove piante e gli insetti Per creare prodotti di erboristeria O nuove ricette di cucina addirittura Un sacco di roba nuova vabbè ci sta Se i rumors sono giusti Che poi altro che rumors ormai voglio dire c'è anche scritto qua Quindi il 99% delle cose che vi sto dicendo saranno proprio reali Nella seconda zona dello scenario ci sarà il parco nazionale di Granite Falls Una foresta lussureggiante piena di piante e insetti E cazzo No basta solo piante e insetti E anche vedute perché ci saranno dei paesaggi fantastici Ci saranno un sacco di cose belle Molti addirittura dicono questo però è un rumor Che ci sarà anche un eremita misterioso che vive in alto su per le montagne Tipo Heidi ecco per farci capire Quindi nuovi vestiti, nuovi oggetti Tutto allo stesso prezzo di uno staff pack Che come sapete negli staff pack c'erano solo vestiti e oggetti In questo caso oltre che vestiti e oggetti ci sarà un sacco di roba E quindi anche un gameplay differente del gioco E ci sta Se volessimo affiancarlo al resto delle cose Diciamo che l'espansione è la cosa più figa che c'è Poi c'è il game pack E poi subito dopo ci sarebbe lo staff pack Che sarebbe solo come vi ho detto vestiti e cazzati Quindi direi che vi ho detto già un bel po' di novità su The Sims Che arriveranno a fine settimana Quindi può essere che la puntata col game pack eccetera eccetera Vedrete martedì Comunque non importa Oggi è giovedì e iniziamo a giocare Ed eccoci qua in casa Mephisto Che cosa succede? Perché questa persona è venuta qua scusate? Eh no non dovevi stare lì Adesso le paghi tutte Eh no non dovevi venire qua La casa è da un'altra parte signorina che fa le pulizie Oggi la tua casa non sembra aver bisogno di miei servizi Andrò dal mio cliente successivo No penso proprio di no signorina Mi dispiace ma credo proprio che lei non andrà da nessuna parte Beh giustamente casa Mephisto Cosa pretendete? Questi si fanno i selfie Con la musica tutto volume Io odio il calcio Ecco lui subito così parte Lui senti ma io ho visto sul computer Che c'erano delle tue foto zozze Che eri su una macchina Che la stavi lavando No no ma guarda che quelle non sono mie Sono di un'immondiziara Che non so cosa sia E mia sorella gemella Dai veramente non mi fa piangere come una nuvola che piscia pioggia Dai almeno fammi scrivere prima non lo so il testamento Guarda ti va bene che ancora ci tengo a te ti devo dare due colpi Grazie come sei gentile Lui si vai uccidila Ma no Guarda ti farò un regalo No forse anche no Ma prego fatela pure entrare Chi è? No vabbè è giovedì ma ci mancherebbe Prego prego vieni vieni Parla col bambino Ma che palla? Io odio questa palla Ma è una donna E vabbè è una palla lo stesso Vediamo lei come sta invece Ma cosa fa? Mangia Lei Oh mio dio un fantasma Salve signorina ma lei lava i piatti No perché da dove vengo io Senta lei do dei soldi se mi fa uscire di qua Devo andare a pisciare No troppo tardi Dai non faccia tutto questo casino Siamo morti tutti almeno una volta Io sto mangiando Sì sempre la stessa musica Io sono a dieta non posso Devo stare dentro il sedile della mia spider Se no non ci entro Ora che ho mangiato sto molto molto meglio Ora la vero i piatti nell'acqua quasi quasi Si è fatta una pisciata addosso terribile Pure il fantasma dice Cazzo Potevi farla un po' più in là eh Ok è lurida da far schifo eh Si è pisciata addosso E il fantasma è cascato nel piscio No non ci credo che schifo Il fantasma che non riesce più uscire Manco lui dice Voglio andare via Qua c'è puzza Ho dormito nel piscio Ma ho puzzo di scarpa vecchia Voglio dormire Ma cosa vuoi dormire Ormai purtroppo sei nella casa sbagliata Nel momento sbagliato Dai portatela via su Dai mettiamo via un'altra lapide Salve tristo mietitore Sono sempre io Oh ma tu vuoi la mia faccia Ammettilo Ma no io sono solo Un simpatico abitante Di questa Insomma bella cittadina Boh se n'è andato Guardate i fantasmi Già ovunque Ovunque Ma che pari Lei tocca asciugare Il casino degli altri Adesso però sarebbe arrivato Il momento Ho visto anche Che l'età di Mephisto Sta aumentando Di andare Da un'altra parte E così Gli regalo qualche fiore figo A Mephisto Perché così Quando vorrà anche lui fare Quella pozione Per non diventare vecchio È a posto Lui entra in casa Così come se non ci fosse un domani Attacca la tv I tuoi vecchi Sono lì Che fanno porcate Vabbè direi che potresti Anche lasciar perdere Vieni qua Raccogli Raccogli Fai finta di niente Raccogli Anzi raccogli tutto Raccogli tutto Dai tanto non se ne accorgeranno mai Sono vecchi Fiore della morte Eccolo qua Ne hai presi un botto Quattro ne ha presi Otto Benissimo Benissimo A posto A posto Non serve altro Salute i tuoi Digli che ci vediamo poi a Natale Via 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 È riuscito fuori tardi Minchia zia Sono stato troppo in disco Oh Mephisto vuole fare un evento sociale Vediamo un po' Adesso non vorrei dire No Però se avete notato Sono successe cose strane Ce n'è Uno nella stanza delle torture qua Uno qui dentro E uno qui Oh C'è anche uno qua fuori No vabbè Questo si è salvato Per sto giro Esprime un desiderio Vai Allora Lui sarà Nemico pubblico Testa calda E ci sta Abbiamo delle persone Molto interessate alla casa Come vedete Sono molto felici Di stare qui Però qualcuno Ripari un po' Qualcosa Perché veramente Fa schifo sta casa Ripara Tra questi tre Chi sarà il primo a crepare Abbiamo il signor Filippo Signor Giovanni E Jay Mamma mia Il buio più totale Uno all'aperto E gli altri In una stanza chiusa Dai Chi crepa Chi crepa Giovanni inizia a cedere Si è pisciato Cacato Insomma Ha fatto di tutto Dorme nel suo stesso piscio E' morto Filippo E' morto per primo Filippo Sono morti quasi tutte e tre Insieme però Eccolo qua il nostro Filippo Che va a finire qui Anche lui E beh è contento Lo ammetto Lo vedi subito Che è una persona felice Di finire anche lui In casa mia E anche lui Dov'è? L'altra tomba Che me la son persa Oh Un'altra lapide Per il nostro Bel Mephisto Ecco fatto Abbiamo ben 14 lapidi In questa casa E' un cimitero Questa casa Non è più una casa Ogni volta che poi La gente crepa Le porte Ritornano Casualmente E ora Caro il mio maledetto Non è ora che ti rifai il guardaroba Direi proprio di si Dai vatti a scegliere gli abiti Ecco come maledetto Affronta il suo quotidiano Ed ecco la formalità Per maledetto Per l'eleganza Anche mentre si suda Come dei maiali In calore schifosi Per maledetto Ma che di notte Qualcuno si mette i vestiti Ecco la notte Di maledetto Che ci vai a fare Ad una festa Se non c'è anche Maledetto Tutti si gireranno A guardarvi Se andate in piscina Con maledetto E ho finito Ma vi rendete Conto come Sta cazzo di casa Un porcile Da far schifo Ma non si può Chiamare il tecnico Che faccia tutto lui No eh No sono sempre I soliti servizi Vaffanculo E loro parlano Di manette Letti Sì Prenditi una tomba E portatela letto Poi metti le foto Sul computer Ma che schifo Dio mio Così loro Si divertono Lì Ognuno va dove vuole Per divertirsi Ma chi è sto coso Beh ho già capito Eh lo sapevo Luca di Shrek Eccolo lì Ma veniamo a fare un giretto Anche da Riccardo Anche da Riccardo E beh bisogna anche Togliere tutti Sti addobbi Mi dai Dei soldi Boh Tu vuoi comprare Casa Quella rosa No non te li do I soldi Piuttosto Li usi Per un t-rex Se no chiamo I carabinieri Ti faccio arrestare Ecco Botte Ah lui ha pisciato Con loro lì Ho capito Si non gliene frega Più manco un cazzo Lui piscia ovunque Oh Lavo mani Eh giustamente È andato a pisciare E poi vi fa i cocktail Mettendoci le dita dentro Che è il massimo Ma sei seduto successo Non ho capito Dai prepara quella bevanda strana Dai Se lo beve lui Perché giustamente Gli altri non bevono Ma vi rendete conto Lui con il cocktail in mano Che caca Perché tu guardare strano Io essere tu buone Riccardo Si l'hanno detto Anche in aereo L'altro giorno Eh giusto Lui beve E caga L'altro giorno Cagare dentro Tuo armadio Si io Io E poi nel bidone Dell'immondizia Bravo bravo Avere toccato anche pc Pieno di piscio Poi mangiare al mac Leccare anche le dita Che schifo Allora Vorrebbe fare anche questa Di bevanda Ma non me la fanno fare Come mai Fiore della morte Bisogna andare a casa mia mia Dal papino Viaggia Vai Riccardo Io ora entrare E rubare tutto Io dentro Che sto dicendo Ma chi è che fa tutto sto casino Puro giardino Io stroppo tutto Piscio sopra No non pisciarci Cazzo No vabbè Ma Riccardo è proprio scemo Vabbè andate a lavorare Ok Bravo Complimenti Devi fare una cosa come si deve E hai sbagliato E vabbè Questo è il nostro Riccardo E per chiudere la puntata Direi di fare un saltino Anche da Lucius E vediamo subito Che Mentre lui ha il computer Sua moglie E io stiamo parlando Perché lui è dark Credo sì E lei mi sta dicendo Giustamente hai finito Di guardarmi le zinne C'ha ragione C'ha ragione Basta guardarmi le tette Sembra il caso Di guardarmi le tette Allora andiamo a letto Se no sei un'immondizia No È la maglia di tuo figlio Non ci voglio credo No È la bomba È peggio che beautiful Avete ragione E chi è questo scemo Adesso basta Ragazzi però Oh Il nonno Sì 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 C'è il nonno Queste cose Mi fallo un po' di prezzo Voglio una pipetta da crack Vabbè Facciamo finta di niente Io vado in giro nudo Per casa Io ho visto una sirena Una sirena Di quelle che stanno in acqua E beh Te credo Se no era quella degli sbirri Comunque E poi ho visto un t-rex E gli alieni Colpa degli illuminati Lo dice anche Adam E poi Hanno trovato Oro Oro ovunque Sto Beccati la scossa Faccia di merda Lui sempre allegro Sto Beccati una scoreggia Tu c'hai le palle in bocca Ma io volevo dirti Che tua moglie Non me ne frega niente Sei una faccia di merda Basta Parla con la mia mano Senti Io ero venuto per dirti Che tua moglie È una zoccol Ma guarda te Voglio darti una mano Sono il tuo vicino di casa Ti sta trombando Ti sta cronificando Farsino con tuo padre Ma ti rendi conto Stai zitto lama Non ti credo E ora Ti scippi botte Ma smettila Ascoltami Vai di là Ma stanno trombando Come degli assassini Ma non vuoi capire Boh Giù botte Perché Lui ci non ci crede Tanto loro ci stanno dando Alla grande Da circa un quarto d'ora Mezz'ora Un'ora Insomma Così impari a dire Certe stronzate Scusa Devo andare a casa C'è Una faccia di merda Mi raffreddo il pisello Ma no In che senso Faccia di merda Guarda Sono in mutande Tutte e due Secondo te Cosa hanno fatto Fino adesso Guarda come lo sei Guarda che palla in bocca TV Tu quello fai Non urlare a casa mia Sai Beh loro intanto Si incazzano tra di loro Lui tranquillo E a posto Insomma Ci ha dato anche Con la moglie di Lucio Ma perché Ragazzi Direi che per questa puntata Può essere davvero tutto Anzi Fin troppo Direi E magari riuscirò Ogni tanto A prendere qualche vostro personaggio E inserirlo In questa serie Fuori di testa Quindi Un saluto Una grande a tutti quanti Alla prossima Ciao belli Ciao belli